Soleil Sorge può iniziare a tremare, sta per piombarle addosso un vero uragano. Vediamo cosa succederà all'influencer. Grandi novità per il GF VIP già a partire da lunedì prossimo. C'è un nuovo ingresso previsto che potrebbe far scoppiare una bomba direttamente su Soleil Sorge. Vediamo insieme cosa sta per succedere. Dopo i risultati un po' scadenti, soprattutto confrontati con quelli dell'anno scorso, la produzione del Grande Fratello VIP corre ai ripari. Ormai le dinamiche sono stantie, sempre la stessa minestra a detta di moltissimi utenti. Occorre uno scossone, uno di quelli grandi tali da far tremare la casa. E pare che accadrà proprio questo, forse già da lunedì. Sono già previsti nuovi ingressi e moltissimi contatti di vipponi sono in sospeso, in attesa di conferma. L'annuncio del prolungamento del reality fino a marzo 2022 impone un turnover d'obbligo. Ma servono vipponi di una certa caratura e con una forte personalità, in grado di movimentare le giornate spesso. Noiosissime dentro la casa più spiata d'Italia. La regina Soleil Sorge si sente molto forte, dopo essersi salvata come la preferita all'ultimo televoto. Ma non immagina cosa la aspetta. Sembra confermato l'ingresso di Vera Gemma al GF VIP, forse già da lunedì. In rete si susseguono indiscrezioni convincenti e gli spettatori sanno che la donna sarà una bomba pronta ad esplodere. Vista anche l'età più matura e la sua irruenza potrebbe dare a Soleil del filo da torcere. Le due avevano avuto uno scontro social pochi mesi fa e sicuramente non si tollereranno. Vera Gemma aveva risposto a Sole così. Ti seguo perché sono segretamente innamorata di te e la Slimy non so cosa significhi, ma comunque resta il fatto che. Non ti trovo particolarmente spontanea, il che non è grave, c'è di peggio. Masterisatine improvvise che secondo te fanno molto femmina indifesa mi annoiano. Masterisatine improvvise che secondo te fanno molto più grande. Masterisatine improvvise che secondo te fanno molto più grande. Grazie a tutti